Start, 2, 1, installa missione e liftoff! Il gioco purtroppo non è in italiano, io penso che non tarderà ad arrivare a una traduzione in italiano. E che tipo di gioco è? Beh, se voi avete in mente Crusader Kings 3, il gioco è simile, seppur da quello che ho notato, da quello che ho letto, meno preciso a livello storico e meno profondo. Ecco, quindi lo iniziamo, voglio però vederlo per la prima volta con voi, quindi non sarà un vero e proprio gameplay. Sappiate solo che le differenze, diciamo in termini di battaglia, ecco, è una battaglia più alla Total War rispetto a un Crusader King dove è più schematizzata, ma le dinamiche su Crusader King sono molto più profonde. Iniziamo da tre date, il 1110, il 1224, il 1360 e possiamo andare a scegliere se, con la difficoltà, dicono che sia già parecchio difficile ad easy, quindi non giochiamo easy, poi in realtà si potrebbe fare normal hard, very hard. Si può prendere un regno, una provincia, la dimensione, se sono storiche o se, diciamo, è possibile anche ridurre i vari regni a una, due, fino a cinque province. Dice, diciamo, il valore, lo standing delle religioni, potete metterlo a livello di sfidante o storico. Io ho l'oro iniziale, l'età del re e il ruolo di spionaggio possibile, in questo caso re totale. Infatti, vedete che adesso io ho messo su regni e abbiamo il regno germanico con i vari vassalli, così come se io vado sulle province, vedete che c'è la provincia di Milano che non mi dà, aspettate che, sì, me lo dà all'interno del regno, ma se io prendo una provincia mi dice che questa provincia sarà sotto, adesso non lo vedo qui, ma mi dirà che è sotto la provincia di, anzi, tra l'altro, sì, infatti così, kingdom, ok, ecco, questo è un concetto più semplice. Allora, qua siamo sotto la famiglia germanica, io prendo i Savoia, Contera di Savoia, Conte di Savoia e ho il mio regno, insomma, e possiamo vincere sia diventando capi, diciamo, riconosciuti da tutti gli stati maggiori come i più forti, oppure possiamo settare anche delle vittorie minori, come l'espansione al massimo della nostra monarchia, insomma, e cose del genere. Allora, tra l'altro, il mondo è limitato appunto a questo, quindi non c'è tutta la parte asiatica che c'è in, ad esempio, in Crusader Kings 3. Andiamo avanti e scegliamo la Conte di Savoia, giusto così per farvi vedere un pochino in che cosa consiste il titolo. Ripeto, questo non è un tutorial e non è nemmeno un gameplay, è una presentazione, perché questo gioco mi era sfuggito, l'ho scoperto all'ultimo, insomma, benvenuto. Lui è il nostro scudiero e ci fa vedere, insomma, andremo a vedere che cosa possiamo fare qui. Ci sono molti modi di vincere, insomma, quello che vi ho detto. Per imparare a giocare abbiamo la libreria reale, dove ci spiegherà tutto. Qua in alto abbiamo la corte reale, quindi la corte dove al centro c'è sempre il re, che siamo Conte Amadeus III di Toino. Abbiamo gli altri spot, dove sono seduti, poi si siederanno altri tipi di figure, tra cui anche i cavalieri. Abbiamo le risorse divise per la tesoreria, i libri. I libri, diciamo, hanno un'entrata. Vedete, io adesso, esempio, i books. Non so cosa sono, clicco e vedete che mi spiega che cos'è. Praticamente produce libri la regione, diciamo, governata, piuttosto ne produce di più rispetto a una non governata. Gli insediamenti, gli edifici, gli upgrade, le tradizioni producono libri. Poi abbiamo la religione, punti di religione, insomma, se avete già giocato a Crusader Kings sapete. Qua abbiamo il commercio, le entrate di cibo, la produzione di cibo e le entrate e le leve militari, che sono un classico concetto anche di Crusader Kings. Tra l'altro qua potremmo poi andare a vedere la mappa e mandare un emissario per commerciare con una nazione. Come vi ho detto, è più semplificato. La parte in alto, invece, è interessante perché è un'opinione e sono le opinioni. Le opinioni di varie categorie, adesso non sono cliccabili, ma diciamo che comprendono varie tipologie, vari citi sociali e potremmo intervenire noi stessi come re o mandare altri a risolvere le situazioni del nostro regno. Poi vabbè, graficamente è più carino rispetto a Crusader Kings. Allora, qua invece abbiamo la corona, l'autorità della corona e diciamo che l'icona cambia in base a quanto è alta l'autorità della nostra corona. Possiamo aumentarla, diciamo, pagando, spendendo risorse per aumentare appunto la nostra autorità. Qua abbiamo la vista sulla famiglia reale, quindi dopo cliccheremo e andremo a vedere. Le guerre e i patti. Abbiamo l'overview, quindi la vista generale sulle nostre province. Abbiamo i poteri, diciamo il ranking mondiale, insomma, di tutti gli imperi. Qua sotto invece abbiamo i vantaggi, insomma, per poter vedere tutte le produzioni e per vedere appunto quanto siamo lontani dalla nostra vittoria. E lì sotto invece abbiamo il tempo da mandare veloce. Il gioco non esiterà a darci indicazioni ogni qualvolta, cliccheremo su una funzione nuova e le andremo a vedere. Qua abbiamo Torino. Adesso ho cliccato sulla provincia, ma abbiamo solo una provincia alla fine, credo. Questa è una delle molte terre che saranno controllate nel tuo regno. Ogni provincia ti permette di costruire strutture, assumere truppe e stazioni, diciamo, di forze armate in difesa della città o contro gli assedi. Questo è il governatore della città. È una posizione assegnata in ogni cavaliere nella corte reale. Insomma, i governatori provedono accesso... Ok, perfetto. Qua abbiamo la popolazione, 10 su 10. E abbiamo un meno 2 di stabilità. Molto male, quindi le bisognerà risolvere. Qua invece abbiamo le risorse che la provincia possiede, produce. Praticamente la somma di tutti questi dati qui contribuiscono alla produzione qua. Infatti, noi abbiamo una produzione di più 3 di religione. Qua ne produce 2. 4 di commercio. E 2 di... Ok, va bene. E di sotto invece abbiamo le features e le merci. Praticamente quello che è in grado di fare... Abbiamo due villaggi. Due villaggi in Torino, intorno. Abbiamo un monastero, che tecnicamente dovrebbero essere questi. E il monastero lì. E in più abbiamo le tipologie di paesaggio. Quindi abbiamo colline e montagne. Abbiamo campi di flax. Cazzarola per le fibre, insomma. E depositi solforici. Di zolfo. Allora, aspettate un secondo. Qua di fianco invece vedete che possiamo andare a costruire fino a 8 edifici. 4 sono posizionabili. Altri 4 pagando qualcosina in più. Qua sopra invece potremmo vedere gli stati temporanei delle nostre città. E qua sotto invece le fortificazioni che possediamo di questa città. Quando migliorate guadagniamo più 100. Ok. I costi di aggiornamento sono mille lavori di lavoro. Mille di leves. Quindi di lavoratori. Lavoratori, ma intesi anche come soldati, probabilmente. Niente. Ok. Allora, 500.000 martelli. Va bene. Perfetto. E qua abbiamo il garrison a guarnigione all'interno della città. E qua invece abbiamo i difensori della città. In pratica possiamo stipare qui dentro, stivare, delle unità. Mentre invece qui sono quelle adibite alla truppa. Ok. I leader degli eserciti possono entrare e uscire dalla città con le loro truppe. E praticamente loro li ritroveremo qui. Va bene. Allora, questa è praticamente la città. Vedete che stanno già vagando. Questo è un army leader. Sono condotti da un cavaliere. Cliccando lo spazio andiamo a concentrarci su di loro. Le unità sono queste. Il morale delle loro truppe è evidenziato qua in alto. La quantità di uomini. E la quantità di risorse, che è molto importante e carina. Perché questa fase degli spostamenti non c'è tantissimo in Crusader King. O almeno non semplificata così, perlomeno. Quindi qua vedete. Ah, stanno andando a Nizza, ma non c'entra una fava con quello che stiamo facendo. Perché noi abbiamo la nostra provincia, che è questa. Tutta qua e basta. Allora. Ok, abbiamo. Vediamo un po'. Villaggio in Savoia. Villaggio, altro villaggio, altro villaggio, altro villaggio. Vedete che sono tutti qui. Si vedono sotto con queste immagini. Invece, cliccando su Torino, possiamo andare cliccando qui a costruire. Ci sono i distretti militari della popolazione, religiosi e di coltivazione. Ok. Possiamo costruire industrie di costruzione anche. e per il commercio. Perfetto. Quindi praticamente noi possiamo andare a cliccare. Vedete che qua andiamo a piazzarne una. Market Square. Possiamo andare a piazzare il Market Square. Build. Però, vabbè, questo lo lasciamo per dopo. Ci costa 430 e 800 punti lavoro. Questo è uno dei classici giochi dove dovete avere l'amico che se ne intende, che lo conosce bene e poi lo padroneggiate. Insomma, quindi quello non sono io. Vi sto facendo un pochino vedere in che cosa consiste. Bellissimo qua il movimento delle truppe. Cioè, questa è una cosa molto molto bella. Cliccando sulla REM Vabbè, siamo noi questi. Abbiamo delle cose che possiamo fare. Praticamente noi possiamo aggiungere nel nostro consiglio delle persone che possono essere un maresciallo, un mercante, un diplomatico, un chierico o una spia. Il livello del cavaliere è determinato da quante skill possiede? Cliccando sul livello... Cliccando... Ok, è possibile vedere. Il livello, ok. Gli status, possiamo vedere. E le azioni effettuabili. Cioè, praticamente io adesso premendo P posso mettere in pausa, ma premo qui direttamente. Noi possiamo adesso... Vedere... Allora, siamo il conte di Savoia. Abbiamo il governo... Stiamo governando Torino. E possiamo starcene in panciolle nella corte. Qua invece possiamo fare bolster culture. Quindi pagando 100 possiamo... fare questa azione. Questa azione ci serve anche per migliorare quelle situazioni brutte. Ad esempio qua in alto abbiamo i nobili, che abbiamo uno, quindi sta andando bene. Qua abbiamo l'esercito. Abbiamo l'esercito che sta perdendo perché ha morale, meno 0,5 e meno 1 di stabilità. La forza... La forza... Ok, va bene. No, stiamo andando bene. I mercanti. Corruzione. Abbiamo il clerico. I clerici, insomma, il clero, ecco, insomma. E invece i paesani sono messi normali. Ora, possiamo andare a vedere la famiglia reale. Eccola qua. Questa è la visione del re, della regina, dei figli e, diciamo, i familiari più importanti. Questo siamo noi. Queste sono le abilità. Essere di abilità. Che poi andiamo a vedere. Sono meno, senz'altro. Forse sono, diciamo, una grafica un po' diversa rispetto ai numeri di Crusader. Qua è la regina. Anche lei possiede delle abilità. E qua abbiamo i figli. I figli con l'erede. Perché questo è il primo figlio maschio. Dopo due femmine, che sono già grandi. Ognuno dei tuoi principi o principesse può essere sposato, cioè, fatto sposare con un nobile di un'altra famiglia, insomma, prendendo degli accordi. Quindi li possiamo usare anche per lo spionaggio. E qua sotto, invece, abbiamo i familiari importanti. Questi cavalieri possono succedere alla corona se non ci sono principi elegibili. È carina. È carina la cosa perché qua viene gestito maggiormente il concetto di regno in sé. Rispetto, magari, a un Crusader King che tiene conto di molti più fattori. Qua, invece, volete più fare i fighi facendovi belli in automatico con i sudditi e tutto. Mentre in Crusader King veniva tutto gestito dai venti. Poi, secondo me, come profondità, Crusader è irraggiungibile. Qua possiamo adottare una nuova tradizione. L'arceria, l'assassination... Ci costa, tra l'altro, un botto di libri e non li possediamo. Infatti non possiamo fare nulla. Possiamo adottare la scrittura che ci dà vari bonus. Ce ne sono tantissimi qui da andare a vedere. Abbiamo Principe Umberto, che è l'erede. E la principessa Matilda e Agnes. Sì, non mi dà l'età, però. E invece le abilità sono la guerriglia, l'economia, la diplomazia, la religione e lo spionaggio. Sì, sì, insomma, molto simile. Allora, intanto possiamo andare ad accelerare nuovamente. Vi ho fatto vedere questo. Vi ho fatto vedere l'overview delle città. Quindi praticamente abbiamo quattro insediamenti. Abbiamo due villaggi totali. Un edificio religioso. 12 di entrata monetaria. Non so perché qua in effetti m'è idea. Ah beh. Oddio, 12. In cam ce ne sono molti di più, ma vabbè. Trade 4. Abbiamo la generazione di libri 1. Ok, ok, ok. Va bene. Allora, poi abbiamo questa che era la... Queste sono le nazioni più potenti. Il ranking. Nella posizione in cui ci troviamo noi, nelle varie cose, di salute, società, cultura, politica, conquista e altro. Siamo messi male. Infatti se noi potenziamo tutte queste varie cose, arriviamo a 5.000, vinciamo, possiamo richiedere la vittoria della partita. In questo caso vedete come le finanze siamo a 99esimi, potenza commerciale al 53, perché alla fine siamo solo una piccola provincia. di tutto il regno, nei vari regni, nell'Europa e nel Nord Africa e nell'inizio dell'Asia, insomma. Quindi Venezia, dovrebbe esserci il doge qua, credo. Provincia, ok, questo è il simbolo di Venezia. Questo possiamo andare a piazzarci una spia e decidere da varie cose. Vabbè, intanto, intanto mandiamo avanti di nuovo, un pochino più veloce magari, che vediamo se guadagniamo qualcosina. Intanto, molto bello vedere le persone che camminano in giro. E qua possiamo assumere della gente, possiamo assumere dei paesani come guarnigione supplementare di difesa, possiamo assumere le persone. O possiamo andare anche, come dicevo, a costruire qualcosa, quindi fare crop farming, quindi produrre più due di cibo. Ma in realtà, che cos'è che ci manca al momento? Religione potrebbe essere importante. Housing ci produce più 4 popolazioni e crescita la popolazione. E anche il mercato ci dà un punto di commercio, cose che non abbiamo. Quindi io piazzo qui un mercato. Build. E stanno iniziando la costruzione. Infatti non mette in pausa come niente, ma come fa anche altro. Posizione vacante. Possiamo assumere un maresciallo, un mercante. Io assumo un mercante. E un maresciallo. Non me lo fa fare. Mi costa 200. Sì, ok, perfetto. Adesso cliccando su di loro posso andare a fare varie cose. Adesso prima volevo vedere questo tasto qui, che praticamente è il nostro livello, insomma. Skill primarie, skill secondarie, che abbiamo nel nostro... Seleziono una delle skill primarie del nostro re. Scrittura, medicina, trading o carità. Io prendo trading. Ah, me ne fa scegliere un'altra. Ok. Teologi, no? No, non posso fare un'altra. Allora, io qua ho preso il mercante. Il mercante può commerciare con il regno. E in questo caso con il regno germanico. Mi costa 50 e 10 di commercio e mi porta 18. Quindi potrei mandarlo a fare quel commercio lì. Non governa nessuna città. Quindi potrei assegnargli una in futuro. Questa è in pratica la corte che c'era anche su Crusader Kings, ma che veniva, diciamo, associata ad ufficio. Cioè, secondo me è anche un ritmo un pochino più lento questo e meno sovercchiante. Però non è adatto questo titolo a chi vuole qualcosa di estremamente complesso e profondo. È profondo anche questo gioco, è senza dubbio, però. Qua abbiamo il maesciallo. Leading army. Sì, questo lo ce l'ha già. Posso vedere i suoi. Tattica di cavalleria. Ok. Ha un'abilità. Posso aumentargli il rank spendendo soldi. Così come per me. Io ho questa. Posso, no. Però più tre in monasteri. Ho un monastero, quindi abbiamo una produzione maggiore di commercio. Sì. Vabbè, io intanto a lui, se gli dessi questo, giusto per vedere. No, no, mi mancano i libri. I libri sono, ne abbiamo spesi un po', quindi non... Lorraine asks us to join the war. Praticamente, contro Medusa abbiamo bisogno di più eserciti per avere una chance di sconfiggere Lussemburgo. Il nostro duca Simone, Simone, chiede il tuo aiuto in guerra. Accetto. Il king, il regno è in guerra. Clicca on a... Ok. Clicco qui per vedere contro il Lussemburgo. Quindi praticamente io adesso non ho, perché vi ho detto, lo sto vedendo insieme a voi, non ho la minima idea di... Allora, Lussemburgo è qui da qualche parte. Eccolo lì. Ma vorrei capire come mandarci su l'agente. Vabbè, qua insomma abbiamo anche i patti, i trattati, che è quello che abbiamo aperto prima. Abbiamo la libreria, quindi con tutto il tutorial, la spiegazione dell'intero gioco. E qua sotto invece abbiamo i vantaggi del regno. Quindi tutte le varie merci. E possiamo reclamare la vittoria anche in questo caso. Nel caso in cui dovessimo raggiungere tutti i perk di tutte le cose, dalla masonry, il mercantilismo, l'abbondanza e così via. Un po' come in Stellaris, gli stili, diciamo, quelli che si prendevano a livello di società. Allora, adesso io ho l'esercito, che è questo, che è l'esercito che è comandato dal mio barone. Io lo mando su... Vediamo un po' come funziona sta cosa. Perché lo mando verso il Lussemburgo. Ah, guarda che stanno combattendo. Dai, lo mandiamo. Adesso accelero un pochino, giusto per vedere. Poi, premetto, prendete il video con le pinze, nel senso che è il classico, come dico spesso, gioco che bisogna passare decine di ore per comprendere. E soprattutto è la classica chiacchierata che si fa con amici sul divano. Guarda, viene a vedere il nuovo gioco. Fine. Questo è quanto. Allora, andiamo in combattimento anche noi. Battaglie. Clicca spazio per focalizzarti. Ok. Quindi praticamente abbiamo le scorte. Possiamo ritirarci in ogni momento. Stima della battaglia. Stanno combattendo. Ma in realtà io pensavo potessi partecipare. Questo è il Lussemburgo. Noi abbiamo le nostre truppe. Intanto stanno combattendo ancora la rossa. Attenzione. Genova ci offre un trattato. Aspettate che metto in pausa. Sarà benefico per i nostri regni. Un hub di commercio. Ok. Accetto. Contenere. Devi spendere un po' di tempo col clero. Nel tentativo di convincere. Ah, per i critici. Per dire che sono un devoto regnante scelto da Dio. Non posso accettarlo. Non posso accettarlo perché non ho punti pietà. Quindi se si chiamano pietà anche qua. A religione insomma quella roba lì. Intanto la guerra sta continuando. In realtà io volevo vedere se le mie unità di guerrieri li posso tirare fuori. No, ma stiamo combattendo. Stiamo anche tra l'altro anche... No, no, dai stiamo andando bene. Però vedete la cosa è stata anche piuttosto immediata. Abbiamo lasciato la Savoia. Siamo andati direttamente sul Lussemburgo. e stiamo combattendo al fianco dei nostri compagni. Anche se in realtà mi piacerebbe vedere come funziona il combattimento. Perché... Offerta diplomatica. Messaggio mandato dagli altri regni. Ok. Aspettate. Richiesto fondi per le crociate. Eh sì, abbiamo pagato per le crociate. Va bene, mi sta bene. Allora, voglio vedere la battaglia. Eccolo qua. No, non mi interessa il Lussemburgo. Voglio vedere la battaglia io. Eh, non sta andando... Oddio, mandiamola veloce. È lunghissima sta battaglia. E tra l'altro mi sa che stiamo anche finendo le risorse. Adesso mi è sparita la schermata sotto qui. E quindi... Ok, qua vediamo le vari tipi di mappe, le relazioni, i matrimoni. Però vabbè. Sta andando abbastanza bene, anche se è molto molto lento. Accelero. Ah, tra l'altro dovremmo aver fatto anche la costruzione finita, la costruzione a Torino. Della nostra... No, no, questo è Milano. Della nostra... Ok, del mercato. Che dà più uno, più uno. Ok. Adesso possiamo costruire... Un altro mercato, no? Crop farming. Possiamo piazzarlo. Ok. No, ma io volevo vedere le mie truppe. Ok. No, abbiamo ancora abbastanza... Castello occupato. Ok. Il nostro esercito ha occupato il castello vicino a Lussemburgo. Ok. Ok, sta andando bene. No, io avevo visto i combattimenti, ma probabilmente non me li fa vedere perché non... Il principe Umberto sta crescendo. Posso decidere io? O farò decidere il fatto? Farò decidere il fatto. Cosa che non si fa mai, perché bisogna pianificare, però... Allora, intanto... Abbiamo conquistato... Riprendo il mio esercitino... E ci muoviamo in città. Questo è il... Il siege... Ok. Va bene. Continuiamo ad assaltare Lussemburgo. Magari ci fa fare... Sì, dai, sta andando anche abbastanza, abbastanza bene. Dobbiamo fare attenzione alle risorse, perché se le finiamo poi l'esercito ne soffre, insomma. Vediamo, intanto qua si sta riempiendo tutto, quindi... Dovrebbero... Ok. Assalta. Ok, stiamo sempre di più... Eh, sono... Sono ben difesi qui. Comunque no, ero convinto ci fosse anche la visuale. Che poi, alla fine, il combattimento, da quello che ho visto, dovrebbe essere banalmente un farbice carta sasso. Cioè, un'unità ne batte una, ma non ne batte un'altra, che viene battuta a sua volta da un'altra ancora. Una roba del genere. Foreign Merchant è arrivato. Un mercante da Genova è arrivato. E ha aperto il suo negozio nella nostra città. Perfetto. L'esercito non ha più risorse. Sì, tra l'altro stiamo anche perdendo, quindi... Lasciamo questo. Potremmo assaltare una città? Non credo, eh. Perché il castello l'abbiamo preso. Vabbè. Andiamo. Torniamo a Torino. Soffriremo tantissimo la fame. E l'esercito è veramente... 210, insomma, niente di che. Stiamo soffrendo parecchio. E se ci fermassimo a Berna? No, non possiamo entrare a Berna. Perché? No. Vabbè. Allora, praticamente, in conclusione, possiamo vedere altre cose che possiamo prendere. Assumere una spia. E la spia, cliccandoci sopra, la possiamo mandare a infiltrare una spia in uno di questi regni. Quindi potremmo mandarlo... Quindi potremmo mandarlo... Non so, a Genoa? Dai, mandiamolo lì. Ci costa 150. E lui farà quella... Quell'operazione lì. Quindi, a breve, sapremo qualcosa. La spia si è infiltrata con successo a Genova e attende ulteriori ordini. E li ordinescono direttamente qui. Rovina le relazioni. Aiuta i peggiori a scappare, ma non ce ne sono. Richiama indietro. Io rovino le relazioni. Ah no, potrei fargli abbassare l'opinione dei cittadini al loro regnante. O rovinare le relazioni tra Genoa e un altro regno. No, io faccio questa. Va bene. Ragazzi, io, prima di tutto, mi tocca scusarmi, nel senso che non è un gran gameplay. Ecco, insomma, è... Non è un gran gameplay, ma volevo dare una prima occhiata a questo titolo insieme a voi, dato che l'ho appena ricevuto. Insomma, l'ho provicchiato un attimo, poi ho detto no, lo registriamo subito. Secondo me, come anche Crusader Kings, illustrato da qualcuno che lo sa giocare, e su tutti in Italia vi consiglio a render il channel. Insomma, ve lo potete godere. Non è ai livelli narrativi di Crusader Kings, questo di sicuro, ma a livello grafico secondo me è anche meglio, questo. Resto in attesa di info, magari se mi sono perso qualcosa, sicuramente, insomma, è aperto a eventuali consigli costruttivi, insomma. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!